Se ne parla da giorni e finalmente ci siamo. È ufficialmente partita la prima edizione della Fiera del Disco. Oggi e domani dalle 10.30 alle 23.30 all'Hotel Bellini sarà possibile visitare gratuitamente la Fiera del Vinile. Si potrà guardare dischi rarissimi, comprare a poco prezzo CD, ascoltare in cuffia brani unici in occasione di una manifestazione unica nel suo genere. Una manifestazione ideata da Ernia al Disco, società genovese organizzatrice della festa e diretta da Marco Massari e Carmene Atruia. Tantissimi sono gli espositori. Prima Fiera del Vinile, del Disco, ci sono tantissimi espositori, tanti pezzi unici, nel suo in particolare? Nel mio c'è tanta New Wave italiana, New Wave internazionale, principalmente questa. Poi sono specializzato sul grunge, genere americano, per la maggiore per il Pearl Jam. Insomma, qua ho portato un po' queste cose così. Come sta andando la mattinata? Ma discreta, c'è molto interesse, curiosità, vediamo. Diciamo che forse è più il pomeriggio che dovrebbero iniziare a fare a qualche acquisto, perché sai, la mattina uno cerca sempre di capire cosa sta succedendo. Sì, c'è qualcosa di raro, andiamo su qualcosina del tipo garage, perché ognuno è settorializzato, noi abbiamo delle cose particolari per quanto riguarda il garage, l'Indiroc anni 80, anni 70, però girando ovviamente si vedono tanta altra roba di altri generi. Come sta andando la mattinata? Acquisti? Ancora diciamo che l'affluenza c'è, l'acquisto un po' di meno, però siamo fiduciosi, probabilmente nel pomeriggio sicuramente qualcosa andrà meglio, magari le persone guardano, perché in questo settore bisogna essere troppo ingordi, perché se no uno va a comprare, magari si perde qualche occasione. Meglio girare e poi vedere un po' di fare l'acquisto.